E' stata operata d'urgenza l'altro giorno all'ospedale di Sulmona e tutto è filato liscio, ma il tampone alla quale si era sottoposta prima di essere presa in carico dal nosocomio per il ricovero è stato smarrito e nessuno sa che fine abbia fatto. La disavventura è capitata a una bimba di otto anni di Castel di Sangro, operata con successo nel presidio ospedaliero Peligno, ma è inutile dire che il caso riaccende riflettori sul famigerato macchinario per processare i tamponi assegnato alla Aslavezzano Suona L'Aquila, ma non in dotazione, a meno per in momento all'ospedale di Sulmona. Il processo dei test presso l'ospedale di Sulmona risolverebbe non pochi problemi e consentirebbe di gestire al meglio sia i pazienti con sintomatologia che quelli in attesa di ricovero. Il viaggio del tampone della bambina, operata dai sanitari in via d'urgenza perché l'intervento non era differibile e partirò da Castel di Sangro per fare poi la staffetta a Sulmona ed arrivare all'Aquila per il processo con protocollo urgente. Poi il fuori programma visto che lo stesso tampone è stato di fatto smarrito, una svista che va sicuramente tollerata a giudicare dei carichi di lavoro pesanti alla quale sono sottoposti gli operatori sanitari che non meritano di certo il processo e le intenzioni, ma l'episodio deve servire a mantenere alta l'attenzione per il macchinario richiesto da medici, istituzioni, sigle sindacali e Tribunale della Sanità che aveva scoperto l'assegnazione dei macchinari già da qualche settimana. Ad oggi infatti gli esami devono raggiungere l'Aquila, Avezzano, quelli urgenti, oppure Teramo, quelli di sorveglianza, con comprensibili ritardi nella diagnosi perché ai tempi di processazione del campione bisogna sempre aggiungere quelli legati al trasporto, con l'aumento dei rischi a causa del trasporto stesso, qualche volta anche regime di urgenza, con un notevole dispendio di risorse umane ed economiche, hanno fatto notare recentemente dalla CISL. L'assegnazione del macchinario si rende insomma più che indispensabile, soprattutto in vista della stagione invernale, per velocizzare screening e tamponature.